E bentornati tutti quanti in Ea Locanda, oggi con un nuovo video. Più esattente torniamo su Aers per andare a vedere un nuovo mazzo di questa espansione. Questa espansione sta davvero fornendo tantissimi deck, tantissime strategie diverse e se qualche settimana fa vi avevo portato un Sif Mage versione integrale e originale se vi piace i mazzi OTK dovete andarvi a recuperare, oggi portiamo una versione più ibrida. Stiamo parlando di un Naga Sif Mage, quindi si va a unire il pacchetto, potremmo dire, delle diverse scuole di magia con il pacchetto della Tribe Naga. Una lista che comunque è abbastanza economica, come vedete economica dal punto di vista del mana. Infatti praticamente più di metà mazzo è tutto tra gli 1 e i 2 mana. Per questo avrete sempre start molto molto forti e il resto delle carte, insomma, è abbastanza equilibrato tranne un picco di 7 carte a 4. Per quanto riguarda appunto le carte un mana, partiamo subito con Errore. Sicuramente carta molto duttile perché va in combo con alcune spell e ovviamente con la Naga 2 e 5. Naga 2 e 5 che ovviamente è la sirena che vi porta a fare dei turni molto forti. Se voi andate a giocare a questa, andate a giocare a una Naga come Errore, ad esempio a un mana, vi è ricarica di due cristalli mana, a questo punto potete giocare una spell, vi è ricarica di altri due cristalli mana, potete giocare una Naga e così all'infinito fino alla fine del tuo turno. E quindi andrete a mettere una board molto forte e avrete giocato tante tante spell che avranno fatto robe un bel po' diverse. Per quanto riguarda Errore, tra l'altro va in combo anche con la spell da 3, Varco del Fondale, che non solo ve lo fa pescare ma ve lo va anche a scontare in questo modo. Vi potrete permettere di andare a giocarlo a 0 mana e quindi capite che la combo con la sirena diventa ancora più forte. A 1 mana abbiamo anche il Geyser di Fiamme che sono dei danni fondamentali da utilizzare grazie a Sif. Lancia Viscida, 1-3, carte sicuramente aggressive e poi abbiamo Scoperta la Magia che vi permette di ottenere diverse scuole di magie diverse appunto e riuscire quindi a potenziare sempre di più Sif e la spell a 5 che va a pescare. Serpinnus per aggiustarsi un pochino a mano. Amalgama, stesso discorso per Errore, serve ovviamente per la 2-5, viene scontata a spell a 3, ottima cosa e inoltre dà molto molto valore. Doni di Azzara per andare a pescare, Infinitizzazione per avere un valore infinito e sempre spell in mano, Saggezza Profonda, altra spell che ti dà un sacco di spell in mano, Spira Magica, altra carta che vi permette di andare a ottenere spell, Varco del Fondale come abbiamo detto fondamentale per andare a pescare i robot, Comandate Sivara per ottenere ulteriore valore, ma non abbiamo solo la doppia amalgama come robot perché abbiamo anche la creazione curiosa, creazione curiosa che è un 4-mana 3-4 che fa, infligge un danno ai servitori ma migliora per ogni scuola di magia diversa che è lanciata. Per questo ovviamente andiamo a giocare la spell da 1 e poi nel mazzo giochiamo diverse spell Arcano e Fuoco eccetera eccetera. Sempre a 4-mana abbiamo anche l'insegnante di recupero, Sirena come abbiamo visto molto molto decisiva, Saggezza per andare a pescare e ovviamente Sif. Come avete notato il mazzo gioca pochissimi danni, a differenza della versione che avevo portato qualche settimana fa dove c'erano ovviamente le spell a 1 che facevano 2 danni e in più con 7 di mana a 8 ne facevano 3, qui non abbiamo abbastanza danni per chiudere la partita perché anche se sviluppiamo praticamente un più 5-6 spell damage i vari geyser fanno semplicemente una cosa come 7 danni, quindi capite che 14 danni non bastano per andare a vincere come quindi riuscite a vincere nei matchup control, ovviamente andando a sviluppare più spell damage possibile e poi andando a discoverare dannini, quindi tenete conto che da infinitizzazione e da saggezza dovete anche cercare delle spell che poi vi possono dare danni contro mazzi control ma contro mazzi control teoricamente avrete tutto il tempo di poterlo fare contro mazzi invece più aggressivi ovviamente la situazione cambia e giocate estremamente più tempo insomma questa è la lista, fatemi sapere cosa ne pensate e noi andiamo a vedere qualche partita e quindi andiamo subito con la prima partita per questo mage un po' particolare andiamo a giocare contro warrior, warrior avversario molto tosto innanzitutto perché se andiamo a sviluppare tanta board in early game ce la può andare a rimuovere e poi va a sviluppare tanta armatura dobbiamo cercare di trovare quindi una via di mezzo, cercare di attaccarlo e chiudere la partita il prima possibile col drop 1 possiamo partire discretamente, geyser non è un granché purtroppo non abbiamo ancora trovata la naga ovviamente che ci fa scombare con tutto quanto ok, già che sia un warrior a 40 carte mi rassicura di molto una lista che a mio parere è meno performante di quella a 30 in quanto è molto meno consistente e difficilmente troverà odin fin da subito quindi potremmo avere più margine che turno andare a fare? di sicuro secondo il turno più aggressivo è l'1-3 visto che poi potremmo accompagnarlo da diverse spell che potremmo andare a top deckare o che abbiamo in mano ad esempio saggezza è un'ottima spell, intelletto arcano è buona possiamo andare a prenderla e a scombarla con dardo in questo modo potremmo andare a pescare due carte prossimo turno la naga si continua a va a fare e sono danni importanti che comunque entrano in faccia a warrior Sif l'abbiamo top deckata, warrior non dovrebbe avere carte che ci dovrebbero dare problemi dalla mano quindi va bene che mi rimanga lì in mano, non è un grosso problema andiamo a pescare due carte, serpinus è un draw morto probabilmente perché non vorremmo andare a scartare non vorremmo andare in fondo a mettere in fondo al mazzo Sif direi che possiamo andare di 1-3 andiamo a prenderci la spell vile che è una delle spell più difficili da andare a trovare e credo che insomma la spot sia buona comunque la spell vile ci dà un quantitativo di 8 danni che non sono per niente pochi l'avversario decide di andare addirittura a sconare, andare a giocare a martello andare a tradare la 3-3 ma in questo modo comunque si prende 3 danni abbastanza importanti per l'economia del game qui ci si aprono due diverse soluzioni una è quella di fare un turno più passivo andando a giocare la spell a 4 la seconda è quella di andare con la naga e sinceramente la naga mi piace di più, ha un buon body possiamo trovare diverse soluzioni per il prossimo turno non va sotto l'arma 3-2 dell'avversario e quindi direi che va benissimo così riesce comunque a tradarcela ma deve comunque sprecare mana per andarla a fare è vero che va a giocare il guardiano, va a pescare una spell si rifà altri 4 armatura e torna a 32 punti vita spiera magica ci va bene purtroppo davvero tanta sfiga nel non andare a trovare la naga che ci serve in questa situazione a questo punto possiamo andare a pushare tutti quanti i danni faccia lui che semmai va a tradare non saremo di certo noi partita finora sicuramente non semplice l'avversario si continua a curare per tutti i danni che possiamo andare a fare noi abbiamo avuto una brutta mano e stiamo cercando di fare il più possibile senza far giocate esplosive questo è un po' il problema di naga mage quando non riesce a tenere ovviamente la 2-5 fai dei turni che sono ok ma nulla di più ovviamente per l'herson di oggi devi fare di più ovviamente stiamo giocando contro contro world quindi abbiamo ancora il tempo per fare giocate più forti il problema è che ovviamente inizierà a trovare altre soluzioni inoltre sta andando su di bordo noi finalmente andiamo a trovare la 2-5 iniziamo a scombare andiamo di 2-3 andiamo a prendere infinitizzazione che è la carta migliore andiamo a giocare immediatamente andiamo a trovare la spell 1 che mi piace molto andiamo a giocare la naga che ci dà teoricamente un altro robot vediamo se ci dà le amalgame ok ci dà errore quindi possiamo continuare a scombare andiamo a giocare la spell 1 andiamo a trovare i piedi freddi che non è male manca esplosione era malissimo però secondo me i piedi freddi è leggermente migliore possiamo andare a giocare anche la spell a questo punto abbiamo sviluppato tante tante spell giocate andiamo di 3-4 ci tratta tutto quanto possiamo pushare 4 danni faccia più 1 danno faccia di hero power buon turno certo dovevamo farlo magari un po' prima però va bene ci accontentiamo così probabilmente qui arriverà la sua prima brawl o comunque eccola qui infatti che arriva e a questo punto il nostro playstyle cambia perché se c'è mortal a 2-5 dovremmo andare a vincere di danni il problema è quello che di danni non è così semplice andare a vincere però qui possiamo comunque andare a giocare tutte quante le spell per poi andare a giocare il drop a 4 turno dopo quindi andiamo a prenderci il portale che sono comunque danni importanti andiamo a fare due danni in questo modo andiamo a fare ulteriori due danni con la spell da 1 in questo modo tutte queste 3 spell ci sono ritornate sulla 4-5 l'avversario pensa che abbiamo utilizzato danni completamente a caso ma in verità è tutto un nostro piano per andare a chiudere la partita molto velocemente va a risettare un'altra arma continua a farsi armatura rifi del ritornello per andare a pescare un servitore ci va a trattare l'1-3 23-29 punti vita noi possiamo andare con la naga 3-5 che ci va a rimettere la spell da 1 la doppia spell da 1 andiamo a fare ping andiamo a fare spell da 2 otteniamo un caso archiviato che non è per niente male almeno sono ulteriori danni che potrebbero essere utili al proseguo della partita il problema è che non abbiamo abbastanza danni perché sono 8 più altri 7 sono 15 danni l'avversario si trova ancora a 27 HP quindi dobbiamo cercare di andare a mettere delle board interessanti in modo da metterle in difficoltà non è una cosa semplice però è quello che dobbiamo cercare di fare continua a pescare grazie alle rift ha pescato 3 servitori in 2 turni grazie al rift da 3 con l'arma ci va a trattare anche la naga 3-5 noi troviamo saggezza che è un'ottima spell direi che possiamo andare di portare faccia fargli 6 danni troviamo banditore il che ci fa pescare a questo punto andiamo a giocare semplicemente la spell a 3 è inutile andare a giocare la spell a 1 in questa situazione in quanto pescavamo troppo però banditore ci dà fastidio il fatto sta che potrebbe impensirirlo e quindi potrebbe decidere di andare a utilizzare delle risorse importanti per andarci a trattare banditore perché magari è convinto che noi ce ne facciamo di tanto in verità abbiamo la mano piena praticamente quindi non ci serve troppo però comunque ce lo va a trattare 5 danni continua a farsi ulteriori danni da questa situazione troviamo geyser a questo punto sono 22 danni giusto sono 7-14 più altri 8 22 esatti quindi siamo con l'hp siamo comunque fuori di 4 dobbiamo andare a sviluppare più cose a questo punto la 34 ci va a trattare un bel po' di robe possiamo andare a fare hp fare il trade su lì e andrei a giocare a infinitizzazione magari otteniamo altri danni buono il dardo arcano che tra l'altro ci costa 0 e teoricamente prossimo turno abbiamo vinto in questo modo perché sono 8-16 più 14 30 danni lui ha 25 hp anche se dovesse fare colpo di scudo scusate la spell da 2 che fa 5 di armor non gli basta va a giocare il principe rena va a giocare il rift di transizione che ricasta la spell da 1 quindi si fa 2 di armor ma come detto non è abbastanza perché con Sif noi possiamo chiudere questa partita davvero un bel game tosto non siamo partiti benissimo abbiamo fatto la nostra giocata più forte un po' più tardi è previsto ma fatto sta comunque l'abbiamo messo sempre sotto pressione e poi insomma siamo riusciti a ottenere abbastanza danni in modo da poter chiudere questa partita in modo definitivo primo game andato direi che possiamo andare immediatamente anche con il secondo per vedere se facciamo subito la seconda win consecutiva seconda partita che ci vede giocare contro DK altro mazzo tosto stanno girando tantissimi in blood attualmente pochi mazzi con le piaghe però entrambe le due versioni sono abbastanza toste blood forse di più perché ci serve davvero un OTK incredibile dobbiamo trovare tantissimi danni invece con le plague dovrei essere più contento finalmente vediamo la sirena 4 mana 2 5 in mano abbiamo anche il coin potremmo fare dei turni molto molto esplosivi stiamo solo a vedere innanzitutto vediamo che l'avversario è un con tutta probabilità un blood in quanto ammazza 40 carte 35 hp come detto bene ma non benissimo il blood di K ha una possibilità di andare a 55 punti vita con le spell da 2 sorpassare 55 punti vita in verità arrivare anche a 60 tranquillamente grazie al suo titano e quindi la partita non si preannuncia semplice per noi in particolare è vero che abbiamo la sirena ma non è che abbiamo tutte queste carte incredibili da dire supportiamo gli early game tipo l'1-3 le naghe 2-3 in modo che vanno a pescare eccetera eccetera ovviamente di 1-3 non intendevo questo intendevo quello che si va a fare con le spell fatto sta comunque noi andremo a cercare di fare un turno incredibile credo al prossimo quindi possiamo andare di spell a 3 in questa situazione in modo da scontarci tutta quanta ben bene la mano prossimo turno potremmo partire con sirena naga 0 coin amalgama spell da 1 amalgama spell che viene fuori a spell da 1 eccetera eccetera insomma possiamo fare un turno davvero molto molto divertente e spicy e direi che possiamo tranquillamente partire con la cosa andiamo subito di spell a 2 andiamo a trovare strappo credo che strappo sia la carta migliore in questa situazione andiamo a giocare la naga andiamo a giocare la naga ovviamente sulla 2-5 per ottenere un'altra naga va bene a 4-4 andiamo a giocare la spell da 1 otteniamo raggiuculare ci piace raggiuculare ce lo possiamo andare a prendere non so se voglio andare a giocare di aritente raggiuculare forse andrei di un'altra naga prima andiamo a ottenere la 3-5 gli potrebbe togliere un top deck interessante quindi possiamo tranquillamente andarla a giocare abbiamo giocato naga quindi ora dovrebbe andare bene la spell possiamo andare di spell a 3 in questo modo andiamo a trovare due spell interessanti ma non incredibili andiamo a utilizzare il coin andiamo di 4-4 4-4 che ci da riavolgimento riavolgimento lo andiamo a prendere dobbiamo giocare ora una spell selezione servitore ne evoca una coppia potremmo andare a evocare la coppia del 2-5 dopo nel frattempo andiamo a congelare a 4-4 andiamo a giocare la naga 3-5 andiamo a evocare come dicevamo la coppia 2-5 andiamo a fare hero power che abbiamo la board completamente fillata un turno davvero spicy e piccante purtroppo stiamo giocando contro bloody dk che ha diverse soluzioni a questa board la cosa positiva è che ha 0 cadavri l'avversario il che mi porterebbe dire che difficile che possa rimuovere a meno che ha solo una carta che in questa situazione ci da tanto fastidio che ovviamente è la spell che fa due danni a tutti quanti i servitori con furto vitale ma non sembrerebbe averla per fortuna per noi ci riesce comunque a tradare tutte le naghe il che è un problema ha trovato tra l'altro la luce brucia dal vendicatore 3-5 terribile come roba che dire possiamo andare di nagino a questo punto nagino che ci fa riavvolgimento possiamo andare a prendere strappo strappo che spero che mi dia tanto tanto valore buone questi due card andiamo a prenderci una saggezza profonda ma ci siamo già riempiti la mano in un modo incredibile questo mage può fare un valore eccezionale il problema che abbiamo solo creato non abbiamo messo praticamente board il che è un mezzo problema 3-5 che gli continua a rovinare i top deck il che è una cosa positiva potremmo dire ha meno possibilità di andare a ottenere le spell più forti del removal anche se prima avete visto che ha tenuto un single target removal devastante completamente a caso il 3-4 ci va a traddare doppia amalgama più ci danneggia il 3-5 probabilmente finirà il trade appunto con l'arma 3-1 va a evocare un 7-7 va a fare il value trade con il 4-4 noi possiamo andare di 3-4 in modo da andargli a traddare quasi tutto finiamo il trade con la spell da 3 del demon hunter e ci siamo nati a ripresi board il problema è che l'avversario dopo il nostro turno fortissimo è ancora a 31 hp il che non è una buona situazione anzi inoltre la nostra pressione su board è davvero poca una naga 2-5 è già andata tra virgolette è già stata sprecata e quindi la partita si fa in salita teotar qui credo che sia stato davvero prematuro l'unica cosa davvero forte è la spell a 2 ovviamente l'avversario schillato la riesce a trovare con meno 50% di possibilità di andarla a trovare perché avevamo 7 carte ma bravo lui noi andiamo di spell a 3 che comunque ci potrebbe dare una bella mano nel proseguo della partita doni e diazara ci fa pescare intelletto arcano ci fa pescare però la spell a 1 ci va a scontare la spell a 2 il che non è per niente male se andiamo a giocare la spell a 2 andiamo a millare andiamo a scambiare quindi la vipra otteniamo ulteriori danni che attualmente per come lo stato del game non ci interessa andiamo a fare 3 danni col 3-4 e passiamo il turno anche qui non un grandissimo turno sto pensando se a questo punto andare addirittura a pescare una carta va bene spira magica in modo da andare a ottenere qualcosa poi dalla naga a 4 mana il 5-6 è di sicuro un mezzo problema ci va a tradare il 3-4 può pushare altri 4 danni faccia no decide di fare il trade con Teo va bene ce lo lascia sotto il ping non molto chiara questa giocata attenzione perché troviamo la 2-5 potremmo iniziare ad andare a scombare con la 2-5 andiamo a giocare anche la 3-5 a questo punto la 3-5 ci da 3 spell diverse che sono tutte quante molto forti a dire il vero il problema è che la spell da 2 ne andiamo a bruciare una il che non mi piace particolarmente a questo punto andrei a bruciare una di quelle spell va bene segreto peccato speravo di andarlo a scontare di più dobbiamo ora andare a giocare la naga andiamo a giocare la 2-3 ci da un dannino che potrebbe essere utile verso fine partita andiamo a fare il segreto andiamo a giocare anche la spell buono flagello per magari il prossimo turno direi che possiamo chiudere semplicemente con l'ear of power qua abbiamo sofferto l'assenza delle naga in mano ma comunque abbiamo fatto un turno abbastanza discreto e soprattutto ci si è messo un flagello in mano che potrebbe essere molto molto utile per il proseguo della partita inoltre qui l'avversario lo obblighiamo a traddare la naga 2-5 il che come detto non è nemmeno male come cosa frenesia empia va a traddarci punta naga però almeno la 3-5 rimane viva in questo modo andrà a finire il trade sul 5-2 dobbiamo dobbiamo puntare che l'avversario continui a sprecare risorse e lo sta facendo si ritrova con un semplicente 4 carte in mano il problema è che ci ha preso l'unica spell che ci dava fastidio che era la spell a 2 se no questa partita avremmo vinta assolutamente di valore invece con la spell a 2 si è generato un valore infinito avversario e questo ci porta a dover vincere il diotk probabilmente non più di valore e che va bene fino a un certo punto qui il flagello ci dà una board brutta però c'è da dire che il 6-6 è molto interessante perché il 6-6 ci dà un'altra possibilità di vittoria lui non dovrebbe giocare silence quindi questo 6-6 visto che noi possiamo andare a pescare tranquillamente tutto il mazzo in una maniera molto veloce niente ovviamente da infinitizzazione massima ha trovato il silence praticamente il trasforma al non morto e va bene così insomma fortunato l'avversario in un modo incredibile ovviamente aveva preso quella spell lì non per andarla mai a giocare su di noi ma per andare magari a fare un hp e andare a trasformare tra l'altro va pure di gorgo trovato dal vendicatore cioè capite che le nostre carte gli hanno dato davvero dei carte micidiali ma va bene così ovviamente un po' di sfortuna ci può stare la partita ancora lunga noi abbiamo potenziale di otk la cosa positiva è che non ha ancora giocato le spell da 2 che gli aumenta la vita quindi andiamoci a togliere questa mano che è terribile andiamo a cercare qualcosa di meglio tra cui sif saggezza ci fa pescare l'1-3 potremmo andare a giocarlo tranquillamente e inizierei a buffare un pochino la board con la spell 2 andiamo a pescare 2 troviamo la naga 4-4 che non è per niente male continuerei però a pescare qui seconda naga 4-4 a questo punto andiamo a giocarla troviamo un dart d'arcano troviamo anche runa ardente runa ardente sono più danni a dire vero per un naguino a questo punto andiamo a mettere anche l'1-3 abbiamo messo una board buona abbiamo sempre la mano bella piena è vero che i danni ora sono in fondo al mazzo ma abbiamo possibilità di pescare abbastanza velocemente alla fine ecco avevo appena detto non ha trovato le spelladu io io devo stare mamma mia io devo stare zitto non devo più parlare in questo gioco è pazzesco vabbè va a giocare ignis comunque lui ci ha dato vipera quindi non è un problema in verità a dire vero la sua arma a meno che non abbia trovato fuori del vento e evocato un servitore da 8 mana perché in quel caso comunque è una giocata tempo fortissima è vero che noi possiamo andare a giocare la vipera però comunque ci ha fatto una cosa come 8 danni e evocato doppio 8-8 che è un ottimo turno andiamo a giocare il segreto che va a canterare il servitore allora metti in gioco il segreto fa schifo quella carta letteralmente quella dei draghi è buona non è ottima ma è buona comunque direi che con l'hp possiamo andare faccia spingiamo un po' di danni lo riportiamo a 46 cioè lo riportiamo lo portiamo a 46 in verità l'abbiamo portato a 20 e ora si trova a 55 un po' demolarizzante qui la situazione questo trade mi fa dire che ha la spell da 5 che fa 2 danni a tutti quanti i servitori almeno gli andiamo a togliere un'ematurga che comunque ha una carta abbastanza buona noi prossimo turno probabilmente andremo di spell da 6 più qualche altra spell interessante no decide di andare a giocare il 3-4 va a fare il trade lì il 3-4 gli sopravvive torna a 55 punti vita finisce il trade sulla naga con l'eropower poco male devo dire doppio drago alle strada è il body più forte andiamo a prenderci mamma mia che schifo di draghi cioè oggi ho questa partita impossibile da vincere ho già capito come si sta mettendo l'andazzo però va bene in verità ovviamente il pool è completente casuale a volte si trovano draghi buoni a volte si trovano draghi cattivi però attualmente un po' di sfortuna ci sta perseguitando direi andiamo a fare doppio trade ora che è fullato completente la vita andrei a giocare la 2-3 intanto siamo a 8 card in mano con qua diventiamo 9 scoperta della magia mi piace di più dei dannini perché i dannini possiamo ancora ottenerne un po' dalle diverse spell però appunto lì ci da spell damage in più che a me piace molto spell damage in più e poi inoltre ci potrebbe dare carte interessanti quella spell alla fin dei conti vediamo dal 3-4 cosa andrà a trovare se qualcosa è di incredibilmente forte oppure no va a trovare assalto gli permette di andarci a spaccare la nostra minaccia più grande in borde è vero che comunque ci rimane il drago a fondo con la nave ci da due maledizioni va bene va continuamente a giocare infinitizzazione massica che gli sta dando davvero un massimo valore incredibile purtroppo è riuscito ad andarla a trovare con meno il 50% abbiamo fatto a breccare subito la piaga purtroppo per noi direi che possiamo andare di spell da 0 andiamo a prenderci anche l'ultima spell che è una spell natura in questo modo possiamo andare a tradare il servitore andare a fare spell da 2 spell da 2 che ci da runa ardente che non è per niente male geyser che non è per niente male soprattutto perché possiamo andare tranquillamente a forgiare e la runa a questo punto ci fa un botto di danni per la siffa andiamo a giocare anche l'1-3 così da non millare e la situazione posso dire che inizia a diventare positiva vabbè io non ci credo ha trovato furia del vento evoca un servitore ottomana vabbè fatto sa che comunque ha 47 punti vita avversario la nostra siff noi ovviamente abbiamo tutti i danni in fondo al mazzo però dovrebbe essere l'ital perché sono 11 più 11 sono 22 più altri 10 più altri 10 più altri 10 teoricamente ed ital se non sbaglio perché ora possiamo andare a fare il nagino e sono altri 11 scusate perché non avevamo geyser ma avevamo la spelle lì wow ragazzi abbiamo battuto pure il dk con 55 hp con una sfortuna che potremmo definire wow non so perché l'avversario abbia giocato così tanto abbia aspettato così tanto per l'arma 10 perché ovviamente se l'avessi tirata prima era difficile contrastare quella board però direi meglio così seconda vittoria consecutiva andiamo direttamente con la terza mi sta casando devo dire questo naga mage è tosta perché comunque le board come vedete vengono counterate ora andiamo a giocare pure ovviamente contro il tier 0 del meta però direi che è anche un buon test no andiamo a giocare contro il mazzo più forte che è hunter e vediamo se effettivamente riesce a stargli dietro questo questo deck lancia vicida è di sicuro un ottion drop a 1 purtroppo non abbiamo la spelle di supporto a t2 per valorizzarlo al massimo vediamo che è un xl hunter il che va bene andiamo a giocare l'1-3 come dicevamo vediamo se ha il turno 1 un turno 1 che comunque viene canterato quasi sempre dall'eeropower potrebbe avere sia quello che andava a pescare segreto sia lei come detto andiamo a fare hp andiamo a fare un danno a faccia passiamo il turno prossimo turno andremo di spell 3 il 2-3 non ci dovrebbe tradare il nostro 2-3 quindi va più che bene così andiamo a fare questi due danni in testa e passiamo il turno anche in questa situazione mamma mia l'avversario è partito benissimo 2-3 in 2-3-4 in 2 coin e cos'hai la spell da 1 eh si alla spell da 1 ti ci va a tradare il 2-3 mamma mia un turno devastante da parte dell'avversario noi possiamo andare a fare semplicemente spell da 2 scoperta di magia per andare ad aumentare le nostre possibilità barriere di ghiaccio perché comunque qui non è che la vedo benissimo la situazione eh con geyser potremmo andare a fare geyser sul 3-4 in modo da impostarci poi il trade prossimo turno con il servitore con il mecca tremana e inoltre ci andiamo a scontare ovviamente la spell a 5 il tremana va a fare più danni eccetera eccetera qui va a fare sussulti probabilmente andrà a giocare un 4-1 andrà a fare hero power va a testare segreto va a farci 5 danni no va a giocare 4-1 vabbè qui l'avversario completamente malissimo cioè non ha giocato per niente attorno al 3-4 tra l'altro doveva capirlo perché noi abbiamo fatto pure due dannini sul 3-4 proprio per prepararci alla removal al turno dopo ma va bene così insomma turno particolare da parte dell'avversario che a questo punto ci dà una grossa possibilità perché ha sbreccato tantissime risorse super importanti colpo rimbalzante ci va a tradare un bel po' di robe però ci rimane vivo il robot che rimane un 3-1 direi che possiamo andare a testare explosive explosive no è un monstro errante che va a evocare un servitore a tre mana quindi di solito il trade c'è sempre come detto c'è anche qui andiamo a trovare un urish che è molto interessante potremmo andare addirittura a piccarla andiamo a pescare due carte oh finalmente sirena maledizione sirena non mi capiti mai possiamo almeno giocarla turno dopo turno dopo potremmo andare a fare sirena naga non abbiamo la spell purtroppo ok abbiamo trovato saggezza buono così qui vabbè zombapi non è un problema ovviamente perché ha 5 punti vita quindi non ci muore possiamo andare a fare nutrizione peschiamo tre carte in modo che anche la spell 2 ci si sconti andiamo a giocare l'1-3 andiamo a pescare altre due carte possiamo andare a giocare la naga 4-4 direi andiamo a prenderci boh riverberry forse per andare a copiare il 3-4 potremmo andare a giocare lui abbiamo giocato la naga quindi ora ci manca teoricamente la spell possiamo andare a pescare ulteriori due carte ora dobbiamo andare a giocare il nagino nagino che ci va a copiare il 3-4 come dicevamo andiamo a giocare la spell spell che ci da attacco in avvissamento che sono altri danni possiamo andare a questo punto a giocare un'altra amalgama ci andiamo a prendere un'altra 2-5 andiamo a fare 4 danni lì andiamo a mettere una maledizione spell da 1 dai 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 veloce 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 per andare a prendere una spell sacra spell sacra da giocare sulla 2-5 in modo da prenderci un'altra 2-5 e possiamo passare il turno wow mamma mia scusate di sicuro potevo fare di più ma sapete commentare far tutto è difficile frecce evocata è forte però la board è devastante è difficile Hunter riesce a canterarla a meno che non abbia la spell a 5 spell a 5 fortissima noi però possiamo ripartire di nuovo con la naga e a questo punto ripartiamo con la naga purtroppo non abbiamo altre nage da aver così tanto valore quindi andiamo di lei doppia naga in modo da poter andare a valutare andiamo di 2-3 in modo da ricaricarci completamente spell a 3 ci va a trovare un'altra naga a questo punto possiamo andare di 3-5 e ci ridà tutte quante le spell interessanti in avvissamento possiamo andarla a giocare dopo direi che andiamoci a prendere anche l'ultima energia l'ultima spell che energia viene in questa situazione comandante Sivara ci dà ulteriore valore direi che possiamo andare a prendere lei a questo punto andrei a fare i danni con la 1-2 potremmo andare a pescare a dire è vero mamma mia abbiamo tantissima mana abbiamo un'altra 2-5 direi che a questo punto con hero power ci possiamo andare a spaccare il 3-4 possiamo andare a giocare la 4-4 in questa situazione troviamo addirittura infinitizzazione andiamo di spell a 3 sull'1-2 andiamo a giocare anche il nagino in questo modo il nagino può dare qualcosa vabbè alibi solido va bene altra maledizione due danni dell'avversario board complicatissima da gestire io davvero non ne ho la più palle idea di come ne posso uscire anche perché prossimo turno noi abbiamo la Sif che inizia a fare davvero tanti tanti danni il 3-7 ovviamente è un turno debolissimo da parte sua ci va a trattare solo una 2-5 ci rimane addirittura l'altra noi abbiamo l'Ital tranquillamente con la Sif andiamo quindi a farla andiamo a fare 8 danni con la spell da 1 cioè andiamo tra l'altro a recullare altri 10 danni con l'altra spell da 1 ma non serve in quanto l'avversario si va a ritirare avete visto insomma tutto il potenziale di questo Naga Mage anche contro Hunter l'abbiamo letteralmente asfaltato è così che dovrebbe girare il mazzo non come nelle prime due partite in cui ovviamente abbiamo avuto mani abbastanza così così però tuttavia avete visto che comunque siamo riusciti a ribaltare la situazione 3 win consecutive un mazzo sicuramente buono unisce due pacchetti forti e non c'è nient'altro a dire direi noi ci vediamo domani con un nuovo video e niente ciao ciao ciao